Intercettare i fondi europei a beneficio di Pordenone e del suo sviluppo in tutti i settori è l'obiettivo dell'accordo siglato in municipio da Comune e Informest, l'Agenzia Regionale per la Cooperazione Internazionale. Questo accordo significa poter contare su un appoggio operativo da parte di un'agenzia estremamente qualificata nell'intercettare i fondi europei. Oggi le città devono necessariamente pensare a strategie di medio e lungo termine nello sviluppo dell'economia reale, nel sostegno alle imprese e ai cittadini. Alla digitalizzazione, alle politiche green, insomma a tutti i comparti e lo possono fare pensando soprattutto a intercettare i fondi, i finanziamenti che ci sono quindi poter avere un organismo che dall'esterno ci aiuta, ci accompagna proprio nell'intercettare i fondi, cosa che del resto dobbiamo necessariamente fare significa poter guardare con fiducia lo sviluppo di Pordenone. Guglielmina Cucci, un patto virtuoso nel segno dell'Europa? Assolutamente sì, siamo le soglie della nuova programmazione 2021-2027 che convoglierà numerose e cospicue risorse verso i territori che sapranno intercettarle. Questo accordo che oggi verrà sottoscritto va proprio in questa direzione, darà alla nostra città uno sprint in più, ci permetterà dunque con più efficacia di accedere a quelli che saranno i bandi di finanziamento, a quelle che saranno le linee di finanziamento. Per Informest l'accordo è stato sottoscritto dal presidente Boris Giust. Informest è un'agenzia regionale che guarda l'Europa e ha la capacità di attrarre i fondi europei. Negli ultimi tre anni Informest ha attratto dall'Europa più sul territorio regionale, più di 5 milioni all'anno in media. Ecco, c'è l'idea e il progetto anche di insediarsi a Pordenone da parte di Informest? Sì, ci è stata fornita questa opportunità e noi ben volentieri la consentiamo e cercheremo di essere presenti anche a Pordenone con la nostra rappresentanza.